Consiglio comunale sospeso per garantire sicurezza ed ordine pubblico. Al punto Mercato e Terminal Bus si arriva dopo circa un paio d'ore servite ad approvare il progetto definitivo della scuola Dante Alighieri e discutere dei conti del comune che fatica a rientrare dai debiti perché gli 8 milioni che lo Stato deve per il piano di riequilibrio sono fermi alla Corte dei Conti. L'assessore alle finanze Cuzzola è certo che esaurita la fase dei chiarimenti i soldi arriveranno ma intanto aggiunge si è perso un anno. Sull'argomento Mercato circola voce che ci sarà un rinvio. Tanto basta scaldare gli animi nel crescente boato. Di fondo qualcuno lancia improperi. Il sindaco non transige e sbotta sulla dignità personale e la trasparenza. La folla è ormai aizzata verso i consiglieri terrorizzati. Il presidente dell'aula sospende per motivi di ordine pubblico la gazzarra esservita. Il presidente dell'aula sospende per motivi di ordine pubblico la gazzarra esservita per motivi di ordine pubblico la gazzarra esservita. Dopo dieci minuti i lavori riprendono, la calma torna a regnare, le contrapposizioni lasciano spazio ai ragionamenti. La minoranza propone di tornare con il mercato allo stadio accusando il sindaco di autoritarismo. Da sei mesi chiedeva una sede alternativa e non è arrivata. Campo Genova la soluzione migliore replica festa. A tarda sera il voto. 19 contrari al ritorno nel piazzale dello stadio. 9 i favorevoli. La proposta non passa.